come si dice lele andiamo si quello Rossi Marone c'è ma tocca anche l'invito ma buon zio è la si figa pesa uno come me è un cazzo sotto le mani che lo fa rumore acqua di merda ti lo prendo figa lo no no bravi mica tanto perché dopo scarlica se ne voleva un altro lì qua serviva questa questa vai appoggia e lascia ad andare e non fermarti via via Buongiorno. e la scaretta non c'è è riappesa vai vai che sei qua in mezzo vai dai vado su a prenderti non è bello no l'ho aperto l'altra volta l'ho spostato l'altra volta non mi ricordavo più che l'avevo tolto e anche di là c'è un altro passaggio da liberare che non facciamo in strada però anche lì bisogna una volta per stare lì perché dopo di là c'è quel torrentello che scende prima o poi puliamo anche quello lì adesso quando siamo qua tutti andiamo e non mi è venuto più in mente che c'era io mi darò il legno però con la tua figlia dai allora c'è un po'